Musica Credo che stavolta la qualità video sia delle migliori Forse la migliore di tutte Comunque è bella a tutti ragazzi c'è iFlex che vi parla Ed oggi siamo tornati in un nuovo vlog Lo so che ne ho portato uno proprio brevemente Ma questo è un vlog di quelli belli, importanti Perché ho fatto un sacco di cose in questa settimana Lasciamo perdere i capelli, schifo Ma lasciamo di stare perché è meglio In pratica in questa settimana c'è stato carnevale di mezzo E poi ho alcune notizie da dare Però prima che inizi il video intanto vorrei dire una cosa Ho parlato con Vince Ho risolto tutto sia con lui che con Christian Quindi se qualcuno di voi ce l'ha con loro Non insultatelo, mi raccomando Anzi cambiate anche idea Perché comunque sono stati molto disponibili A cercare di risolvere In pratica abbiamo avuto uno scambio di opinioni Abbiamo visto le cose da un punto di vista diverso Quindi abbiamo avuto uno scambio di opinioni Non è niente di che Soprattutto l'importante è che abbiamo fatto pace Scusate se intanto mi faccio male Qua c'è sto parecchio Allora Ora vi lascerò delle immagini che scorreranno Di alcune foto per quanto riguarda i carri di carnevale Della mia città Comunque sono stati molto belli C'era soprattutto uno con tipo un drag a tre testi Che era qualcosa di meraviglioso È stato veramente bellissimo Soprattutto mi sono divertito un botto Sia io ma anche altre persone che arrivano da fuori Della mia città È stato un bellissimo carnevale E quindi dai vi lascio con queste immagini Ci rivediamo tra poco I've got this feeling You can see it in my eyes So take my hand I will show you The promised land We'll never live in a quale Allora raga passiamo alle notizie Se avete visto queste immagini Comunque ricordo di dirmi sotto nei commenti Il carro che vi è piaciuto di più di tutti Allora Per quanto riguarda le notizie Presto arriverà una nuova fotocamera Quindi Oh mi piace per una nuova fotocamera Comunque credo di mettere qualche soldo da parte Riuscire a prendere questa fotocamera Videocamera Per fare più vlog Perché arriveranno molti più vlog Molte più challenge Quindi Serve una fotocamera Ecco Serve Serve per forza E allora Per quanto riguarda il canale Ditemi sempre sotto nei commenti Che video Che gioco Vorreste Che ho porto domani Così almeno So che questo gioco vi piace E lo guardate Allora Facendo il punto della situazione Domani potrei portare Un MotoGP Un Westring Un Battlefield In compagnia di Imoon Quindi ditemi Se volete un video Su Battlefield Sul mio canale In compagnia di Imoon Sempre sotto nei commenti E ricordate Hashtag Imoonpuzza Allora Andiamo avanti Con il vlog Voglio un attimo Ricordare Che Nei primi di marzo Ci sarà questa VHC Partecipanti Ci sono tutti Alcuni partecipanti Comunque Sono comportati male Ad esempio Alcuni Neanche Prima dicevano Che partecipavano Poi di punto in bianco Non partecipano più Comunque Abbiamo rimpiazzato Le persone Non vi preoccupate State tranquilli Perché Io all'inizio Ho detto Partecipa Tizio Cale Sempronio E per sostituti Abbiamo Tizio Cale Sempronio E poi ce n'erano Altri Quindi Se il tizio Se il tizio Che non partecipa Non prendiamo I primi tre sostituti Perché Allora Uno youtuber Così Punto in bianco Non partecipa più Un altro Non mi ha mai risposto Almeno dire Non partecipo Costa assai Assai ci vuole A prendere il telefono Schiacciare Uno E due No Due lettere Due Non ci vuole tanto E mi dicevi Di no Non che manco Si risponde È assurda Non la riesco a capire Tra l'altro Il tè Buonissimo Non so sinceramente A che gusto sia Comunque Dico Almeno rispondere Almeno Almeno Cioè A dire la verità Io gli ho detto anche A Jaco Rollo Di fare la VHC Però lui Non c'ha Minecraft per PS4 Lui l'avrebbe voluta fare Però siccome non c'ha Minecraft per PS4 È inutile Che lo compra Solamente per questa occasione Perché lui comunque Sappiamo tutti Che fa Minecraft per PC Quindi E non spendere i soldi Per una sola volta Quindi ha preferito Non partecipare Comunque In confronto a prezzo Io Jaco Rollo Che voleva partecipare Youtuber di 5.000 iscritti Neanche a rispondere C'è assurdo Jaco Rollo Avendo 100.000 Vabbè sì Che con Jaco Rollo Ormai mi sento tutti i giorni Quindi Vabbè Ci può anche stare Che mi ha risposto Subito Eh Jaco Rollo Subito Mi ha risposto Mentre ci sono Youtuber di 5.000 iscritti Però Manco per là Manco risponde Manca a dire no Vabbè Lasciamo perdere questo discorso Raga E basta Per questo vlog è tutto Arriverà Credo Fare il punto della situazione Comunque presto Presto Arriverà la rovesciata challenge E la dribbling Più ricordi challenge Ricordo che mi devo vendicare Dopo che mi hanno Dove mio fratello Mi ho fatto perdere La crossbar challenge Bello quel giorno Ero nel no L'ho provato L'ho riprovato Ci ho giocato Anche quando non c'era niente da fare Sempre Su 5 tiri O 4 travers O 3 traverse Proprio quel giorno Dove ho registrato Ovviamente No Non ne prendiamo Una Vabbè Lasciamo perdere Comunque mi vendicherò Ragazzi State tranquilli Con la rovesciata challenge E la riguardia I più dribbling challenge Soprattutto Ricordo i più dribbling challenge Vinco io sicuro Al 100% Perché gli faccio Un tunnel Che poi Dio una bomba Gli spacco tutto Vinco io sicuro Al 100% Poi Sfido A tutti voi Che state guardando Questo video A scrivere Nei commenti Hashtag Imoonpuzza Tutti Lo dovete scrivere In massa In massa E vabbè raga Per questo Vlog è tutto Ricordo di lasciare Un bel pollice in su Perché E' stato un vlog Bello corposo Fattore anche Tante belle cose Cari di carnevale Qualcosa Di bello Vi ricordo di lasciare Un like Un commento Dicendo che Imoonpuzza Ditemi anche Che gioco portare E' il caro Che vi è piaciuto Di più Quindi Diflex E' tutto Bella